Da oggi i turisti hanno un motivo in più per visitare la città di Pisa. È stata aperta infatti la torre del conte Ugolino. Vediamo. Colmiamo un vuoto che era evidente perché c'era soltanto una lapide. Oggi invece si vede proprio la torre. La piazza dei cavalieri a Pisa si arricchisce di un'altra splendida gemma. Il nuovo percorso museale, quello della torre del conte Ugolino. La torre, ricordata dal poeta Dante Alighieri nel canto trentatreesimo dell'Inferno, è la sua implacabile condanna alla nostra città. Lo spazio museale, torre del conte Ugolino, introduce il visitatore attraverso un percorso storico, letterario e artistico, alla visita dei resti della celebre torre della fame, per la prima volta aperti al pubblico. Non è la prima volta che succede a Pisa che abbiamo delle cose belle e non sono accessibili. Bene, questa lo è diventata e speriamo che la cittadinanza e i nostri ospiti sappiano fruirla. Grazie.